La carenza di personale alla Casa Circondariale di Lanciano è un problema annoso che si è aggravato con la pandemia. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria avevano indetto uno stato di agitazione qualche settimana fa e dal primo marzo hanno attuato una forma di protesta particolare. Certo, purtroppo oltre aver subito danni reali, concreti, dal Covid, infatti a seguito del focolaio c'è stato anche un morto tra i nostri colleghi, adesso la carenza di personale è talmente elevata che non riusciamo più. Dopo aver affrontato il focolaio, avere 18.000 giorni di ferie da fare, il personale allo strevo. Purtroppo l'unica forma di protesta che c'è rimasta da fare è quella dell'autoconsegna, perché oltre all'astenzione della M.O.S., della M.S. di servizio, l'autoconsegna, cioè il personale si trattiene a fine turno per un'ora, invece di andare a casa e rimane in istituto come forma di protesta, altro non abbiamo. Nella speranza che qualcuno dalle istituzioni ci venga incontro, quantomeno venga a sincerarsi dal vivo sulle nostre reali condizioni, sì, sì, perché non se ne può più. Cioè non si può vedere la famiglia nei rimasugli di tempo, quando il nostro contratto prevede sei ore. Ne facciamo otto, ne facciamo dieci, ne facciamo dodici, però arrivato a un certo punto non si può più proseguire. Fino a quando durerà questa protesta? La protesta sicuramente andrà avanti finché qualcuno non ci ascolterà, dovranno venire qui o se vogliono, se loro hanno altri strumenti, basta che riusciamo ad armonizzare le esigenze dell'amministrazione, perché lo Stato ha bisogno di un carcere funzioni, però i lavoratori hanno i loro diritti. Se riusciamo a trovare questa forma di equilibrio, per noi va bene, però se continua così non credo che sbetterarmo presto di protestare, perché al momento siamo rimasti inascoltati. Sentiamo anche il SAP che è qui rappresentato. Il problema naturalmente viene da lontano. Anni fa noi eravamo in quel terreno incolto di fronte a qua, perché l'amministrazione ci negò anche il piazzale per protestare. All'apertura del nuovo reparto Ottaviani, che vide anche la presenza del capo del dipartimento, l'allora Santiconsolo, dove noi gridevamo aiuto, noi sapevamo che non potevamo supportare con la nostra pianta organica apertura di altri posti di servizio. Oltre a quello si sono aperte altre due sezioni nel corso degli anni e adesso siamo proprio in ginocchio, non ce la facciamo più. Io ho fatto un piccolo paragone con l'Istituto di Lanciano, con alcuni istituti del Nord Italia, simili per tipologia di detenuti, capienza detentiva e struttura edilizia, e le posso dire che in previsione organica di partenza hanno circa 50 unità in più gli istituti del Nord. O siamo talmente bravi qui al centro-sud che uno di noi ne vale due, oppure c'è qualche errore di fondo.